benvenuti benvenuti alla diretta di oggi di stampa e vangelo si vede il simbolo se si vede abbastanza tutto sommato il simbolo del popolo famiglia a destra mi hanno detto che lì si vede meglio anche se secondo me come illuminazione non è granché vero abbiamo un'illuminazione un po dall'alto vediamo un po se riesco a fare qualcosa va bene saluto meri rossi mauro rotunno i primi che sono arrivati in diretta con mirco de carli il protagonista anche ieri nelle marche con un gran lavoro per il radicamento del popolo famiglia in quella regione nicola di matteo che si appresta a fare con me il tour in sicilia dopo aver sostenuto anche gli amici del pdf umbria domenica scorsa c'è vittoria polacci gabriela maiglia pdf toscana carmela cutolo danilo bassan pdf padova mauro rotunno ieri protagonista della nostra trasmissione di punta c'è un post per te con silvia lucchetti anna russo corrado salonia silvia lodà gasperina analiggiato cinzia gioia caterina sani ciao a tutti andrea cavenaghi pdf lombardia intanto grazie grazie perché stampa evangelo per la seconda giornata consecutiva è andato a cinque cifre carmen benevento nota i capelli sempre più discoli guarda oggi ho pure provato a piegarmi sotto la doccia niente proprio c'è una vertigine pazzesca dicevo cinque cifre per stampa evangelo seconda puntata consecutiva sopra le diecimila visualizzazioni risultato davvero straordinario se pensate tutto ciò che dobbiamo attraversare come censura eccoci invece a essere protagonisti con numeri davvero importanti angelo de santis anna eccelli daniela grechi ascoli viceno presenta il circolo pdf oggi tra poco in conferenza stampa ci informa mirco de carli sapete perché abbiamo fatto diecimila visualizzazioni oltre diecimila visualizzazioni perché sono state fatte quasi settecento condivisioni quindi l'elemento fondamentale del successo delle puntate stampa evangelo di questi giorni è il vostro lavoro cioè il vostro condividere sulla vostro profilo facebook la diretta e dire anche ai vostri amici di seguire il la puntata e loro stessi condividerla più di diecimila visualizzazioni in un giorno vuol dire che noi abbiamo toccato più o meno un'opinione pubblica di un ottavo nono quotidiano nazionale quindi stiamo supplendo e oggi parleremo a lungo del fatto che i media sono assolutamente come dire proni a logiche folli perché la sentenza 272 questa sentenza che oggi trovate in apertura del quotidiano la croce che finalmente dice una parola definitiva di messa al bando sul luto in affitto è una sentenza talmente fondamentale che non è citata su nessuna prima pagina di nessun quotidiano italiano compresi libero la verità il giornale nessuna prima pagina di nessun quotidiano italiano solo sulla croce e stavolta c'è l'eccezione di avvenire avvenire invece a la notizia in prima pagina la sentenza 272 è una grande vittoria di tutti voi è la vittoria delle persone che per quattro anni si sono battute urlando nel paese che il luto in affitto era una vergogna un crimine contro l'umanità che le donne non potevano essere considerate un fattore di produzione che i bambini non potevano essere oggetto di una transazione finanziaria finalmente finalmente una sentenza della corte costituzionale da definitivamente ragione alle istanze di un popolo che ha messo quattro anni ricordate hanno sempre provato a imbrogliarci all'inizio avevano infilato luto in affitto ve lo ricordate nel famoso articolo 5 della legge cirinà quattro anni fa arrivò la nostra denuncia noi spiegammo al paese che quella di quella locuzione in inglese step child adoption vi ricordate la step child adoption spiegammo noi al paese che quell'articolo 5 con quella definizione era l'introduzione del luto in affitto nel sistema nell'ordinamento italiano la battaglia fu durissima anche contro i deputati cattolici che negavano che quell'articolo 5 parlasse di utero in affitto glielo abbiamo spiegato noi che cosa significava quell'articolo 5 poi finalmente francesca batuzzi ricorda appunto voglio la mamma che è stato appunto un libro contro l'utero in affitto quattro anni fa perché vedevo dove si stava andando a parare ebbene dopo quattro anni di battaglia di tutto il movimento pro life va detto e anche di chi si è organizzato sul territorio prima con i circoli voglio la mamma poi con i circoli la croce poi con il popolo della famiglia questa vittoria ripaga appunto di tanti anni di sacrificio almeno questo orrore siamo riusciti ad evitarlo e questo grazie alla mobilitazione alla battaglia vedete che dare battaglia può essere decisivo può essere fondamentale e dunque si può vincere si può in quando si va in battaglia si può vincere si può perdere qualche volta abbiamo perso con questa sentenza la 272 del 2017 della corte costituzionale possiamo proprio dirlo abbiamo vinto noi abbiamo vinto noi e lo dico anche a marco fasulo che dice cosa diranno ora i politici cattolici quelli che non si accorgevano che intanto gli stavano facendo il pacco con la stepchild adoption c'è ancora speranza dice giovanni fiori ha ragione è così ce n'è ce n'è perché la battaglia dà speranza c'è un detto marxista di carl marx che dice felicità è la lotta noi siamo cattolici e diciamo che c'è speranza perché fortemente ispirati da da uno spirito che ci dice la battaglia ha un senso è la buona battaglia andiamo a combatterla però perché purtroppo in troppi hanno deciso di arrendersi di vendersi in maniera piuttosto biega al sistema politico decrepito che ha prodotto le leggi orrende che purtroppo abbiamo commentato in questi giorni per fortuna una parte sana d'italia si è ritrovata a battersi vincendo con una sentenza che dice bene mauro chialastri sottolinea l'ovvio abbiamo difeso la verità abbiamo difeso mamma e papà ma non era ovvio che si vincesse chi ricorda le battaglie ai tempi dell'articolo 5 della legge cirinna quando ci dicevano addirittura ai tavoli dove c'erano i parlamentari cattolici che ci sbagliavamo noi che non era vero che la stepchild adoption avrebbe portato l'utore in affitto e lo dicevano parlamentari molto dentro a queste dinamiche di mondo cattolico beh si ricorda che sarà molto dura riuscire a convincere addirittura i parlamentari cattolici che quella battaglia andava combattuta fino in fondo però oggi abbiamo vinto facciamolo sapere a questo paese visto che nessuna prima pagina nessuna neanche una riga su nessuna prima pagina su di nessun giornale ha riportato la sentenza della corte costituzionale di soio le sentenze della corte costituzionale se fosse stato di segno contrario avremmo avuto le aperture di tutti i giornali invece avete solo l'apertura del quotidiano la croce che mi onoro di dirigere il nostro editorialino che si intitola l'offesa e la vergogna in cui imputiamo a nichi vendola a sergio lo giudice ai politici di sinistra un comportamento che ora anche addetta della corte costituzionale è un'offesa alla dignità della donna abbiamo lavorato anche per rendere evidente dunque che le prime pagine concesse dai settimanali patinati magari di proprietà berlusconiana a quei comportamenti erano prime pagine che erano dedicate a un comportamento criminale eh alla fine insomma abbiamo avuto ragione e ehm devo dire avvenire siccome Pierpaolo Ricci mi chiede anche avvenire alla prima pagina sulla sentenza 272 però al di là appunto dei quotidiani chiamiamoli i due quotidiani cattolici la croce e avvenire non c'è neanche un quotidiano no che ha l'apertura che non ha neanche una riga in prima pagina sulla notizia c'è di tutto nelle prime pagine dei giornali ma non c'è una riga dedicata alla sentenza 272 sentenza decisiva questo vi fa capire quanto è importante il vostro lavoro in questo momento per fare mi piace a questa diretta un mi piace che ci salva dai nostri amici che ci segnalano e provano a bannarci condividere la diretta sul vostro profilo lo ripeto andiamo in quintupla cifra con le dirette di stampa e vangelo grazie alle vostre condivisioni e allora il mi piace la diretta il condividi sul vostro profilo e avvertite tutti gli amici che è in onda in questo momento la diretta di stampa e vangelo per far sapere a tutti che la legge due che la sentenza 272 del mila del 2017 della corte costituzionale ha sancito una decisiva vittoria del mondo pro life del mondo che si è sempre battuto contro l'utero in affitto è fondamentale che però siate voi le antenne ripetitrici di questo messaggio di questo segnale quindi condividete la diretta sul che appena iniziata peraltro sul vostro profilo così tante persone potranno seguirla e magari anche oggi riusciremo andare in quintupla cifra con con stampa e vangelo che è un lavoro quotidiano che noi facciamo appunto per supplire ai media che ci silenziano ricordatevi quello che fate quando voi condividete la diretta sulla vostra pagina è fare un pezzettino di strada per il popolo la famiglia per dare un'informazione che altrimenti non arriverebbe ricordate se non avessimo parlato noi della sentenza 272 del 2017 non se ne sarebbe accorto nessuno perché nessuna prima pagina di quotidiano quella sera repubblica stampa messaggero fatto quotidiano libero verità il giornale nessuno ha messo la notizia in prima pagina il quotidiano la croce è un quotidiano per abbonati mi chiede giancarlo pivetta ci si può abbonare o anche farsi un regalo di natale piuttosto intelligente www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora francesco patuzzi ricorda anche il convegno di parigi dove è stata firmata la carta di parigi contro l'utero in affitto devo ricordare anche il congresso di arci lesbica a questo punto di qualche giorno fa in cui arci lesbica si è staccata dal mondo lgbt proprio contro l'utero in affitto beccandosi pagine di critica pesantissima da parte di tutte le testate del mondo lgbt che hanno detto ad arci lesbica vi siete allineati al popolo della famiglia noi siamo orgogliosi di aver inoculato in questo paese un virus positivo che è il virus del riconoscimento del crimine rappresentato dal luto in affitto forse anche arci lesbica ci dovrebbe un po di gratitudine perché gli abbiamo fatto aprire gli occhi rispetto a questo tema e anche se adesso si beccano l'accusa di essere troppo vicina da dinolfi magari in realtà è una cosa molto positiva per lo sviluppo della loro riflessione in un ambito delicatissimo come quello del ruolo della donna e della maternità perché è l'ambito decisivo della vicenda umana ricordatevi come vengono trattate le donne come viene trattata la questione della nascita cioè dell'origine della vita come viene trattata la maternità come vengono trattate le persone coinvolte nella maternità direttamente cioè la madre e il bambino che nasce ecco lì si costituisce la nostra civiltà gabriela maiglia chiede se sarà possibile abbonarsi alla croce il 30 dicembre sicuramente sì avremo un banchetto anche del quotidiano la croce e allora andiamo a leggere come sempre il vangelo di oggi che è un vangelo bellissimo che tratta di maternità vedete tratta di maternità perché il vangelo della concepimento di giovanni il battista al tempo di erode siamo nel vangelo di luca l'inizio del vangelo di luca il quinto versetto del primo capitolo al tempo di erode re della giudea c'era un sacerdote chiamato zaccaria della classe di abbia aveva in moglie una discendente di aronne chiamata elisabetta erano giusti davanti a dio osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del signore ma non avevano figli perché elisabetta era sterile tutte e due erano avanti negli anni mentre zaccaria ufficiava davanti al signore nel turno della sua classe secondo l'usanza del servizio sacerdotale gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso allora gli apparve un angelo del signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso quando lo vide zaccaria si turbò e fu preso da timore ma l'angelo gli disse non temere zaccaria la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie elisabetta ti darà un figlio che chiamerai giovanni avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita poiché egli sarà grande davanti al signore non berrà vino né bevande inebrianti sarà pieno di spirito santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di israele al signore loro dio gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al signore un popolo ben disposto zaccaria disse all'angelo come posso conoscere questo io sono vecchio mia moglie avanzata negli anni l'angelo gli rispose io sono gabriele sto al cospetto di dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio ed ecco sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole le quali si adempiranno al loro tempo intanto il popolo stava in attesa di zaccaria si meravigliava per il suo indugiare nel tempio quando poi uscì e non poteva parlare loro capirono che nel tempio aveva avuto una visione faceva loro dei segni e restava muto con più di giorni del suo servizio tornò a casa dopo quei giorni elisabetta sua moglie concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva ecco che cosa ha fatto per me il signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini una pagina di vangelo impressionante impressionante ma guardate la bellezza che c'è nella scrittura evangelica guardate l'esplosione di colori vitalità fatti immagini è cinema è davvero cinema scritto duemila anni fa che enorme capacità di ispirazione la presenza dell'angelo la capacità di dire a zaccaria arriva questo lieto annuncio zaccaria incredulo la punizione la punizione non hai creduto resterai muto non potrai parlare zaccaria mite che accetta elisabetta umile che si nasconde per cinque mesi ma la forza la forza del signore che è vita e la bellezza del compimento della pienezza della nascita di un bambino se dio vuole in qualsiasi condizione se dio vuole è una lezione enorme uguale utero in affitto ma quale utero in affitto è la pagina come dice alessandro margiotta che stangisce l'amore di dio per la famiglia è qualcosa di enorme e gianfranco tomei dice che il vangelo è fantasie primitive quando attacchi a leggere sagre scritture mi fai cadere le braccia ed è invece così vitalizzante leggere sagre scritture è così grande per me avere un angelo alle mie spalle che come vedete vi accoglie vi accoglie nella nel lavoro di stampa evangelo che dice entra arriva qui anche tu gianfranco tomei guarda la grandezza e la bellezza insida nella parola del signore che anche oggi nel giorno in cui parliamo di vita e di maternità ci regala una pagina di vangelo sulla vita e sulla maternità e che ci dice la santa alleanza che c'è tra dio e la famiglia ringrazio maria rosa ferraresi che va a messa e ci porta tutti con lei monica consigliere che dice viva noi mamme e viva noi del popolo della famiglia lo possiamo dire una volta lo possiamo dire viva noi che abbiamo vinto che abbiamo vinto questa battaglia fondamentale con la sentenza 272 del 2017 della corte costituzionale che ve lo leggo dichiara la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'identità personale del minore fate subito il condividi sulla vostra pagina di questa diretta fate subito mi piace a questa diretta sto leggendo il passaggio fondamentale testuale della sentenza 272 che non troverete su nessun giornale nessun giornale la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'identità personale del minore questo è scritto a chiare lettere nella sentenza 272 della della corte costituzionale e ancora la surrogazione di maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane è scritto nero su bianco non è un proclama cattolico è sentenza della corte costituzionale a seguito di anni e anni di battaglie anni di battaglie che sono state faticosissime che hanno avuto un prezzo enorme hanno richiesto un prezzo enorme ma oggi oggi la verità riusciamo a farla vincere persino sul piano della battaglia laica e giurisprudenziale lo abbiamo fatto noi lo avete fatto voi uno per uno battendo in questi quattro anni con consapevolezza quando avete letto che l'articolo 5 della legge cirina era sulla stepchild adoption e avete capito lì che stava accadendo qualcosa di terrificante che avrebbe devastato l'ordinamento giuridico sulla famiglia del nostro paese e allora qualcosa davvero è accaduto come dice corrado mi sono emozionato a sentire questa sentenza leggetela bene è un dispositivo impressionante per chiarezza rigetta una istanza che voleva aprire anche lì un varco giurisprudenziale al luto in affitto è stata scritta con perizia con grande intelligenza giuridica partendo dalle norme allora io voglio ricordare che in questo paese anche prima di questa sentenza la legge 40 del 2004 articolo 6 comma 12 vietava e vieta l'utilizzo della luto della pratica e luto in affitto vieta anche la pubblicizzazione della pratica e luto in affitto lo vieta con sanzioni precise due anni di carcere e un milione di euro di multa ora voi sapete che sono parlamentari della repubblica io oggi sul quotidiano la croce ho fatto i nomi e i cognomi sergio lo giudice ci sono noti politici nichi vendola che hanno fatto ricorso a questa pratica la legge anche prima della sentenza della corte costituzionale definiva illegale questa pratica e la pubblicizzazione della stessa ma noi abbiamo visto nichi vendola per esempio nel salotto di michela murgia fare il pane girico del luto in affitto ora noi dobbiamo con nettezza e chiarezza rivendicare l'applicazione della legge le sanzioni vanno applicate è intollerabile che si possa utilizzare e offendere come dice la corte costituzionale la dignità della donna bisogna far sì che questo principio sia chiaro e nessun altro sia mosso alla tentazione di imitare nichi vendola lo giudice politici di sinistra e con i soldi che hanno fatto in politica si sono andati a comprare un bambino questo è lo abbiamo sempre detto l'abbiamo detto dal palco del circo massimo personalmente ho speso i pochi minuti che ho avuto per parlare sia a san giovanni che al circo massimo per parlare di utero in affitto perché sapete che è stata sempre la mia ossessione è quello il cuneo attraverso il quale può entrare ogni perché quel cuneo racconta una visione del mondo che trasforma la persona in cosa se la mamma è un mero fattore della produzione se il bambino è un oggetto di una transazione finanziaria allora la visione antropologica di chi siamo trasforma la persona in cosa se la persona è una cosa allora si può eliminare e si elimina come avete visto con i meccanismi eutanasici con il suicidio assistito con l'aborto sistematico secondo la tipologia di bambino che sei se nasci down devi essere abortito se nasci con la trisomia 18 devi essere abortito se hai la spina bifida devi essere abortito per quella che è una selezione eugenetica vergognosa e di stampo nazista che sta attraversando il nostro tempo senza che noi ce ne accorgiamo chiamando questa soppressione di deboli continua a decine e centinaia di migliaia nuovi diritti civili quando invece dovremmo chiamarlo genocidio e selezione eugenetica di stampo nazista sono molto peggio che i nuovi erode lo dico angelo de santis sono molto peggio perché sono oltre i nuovi hitler sono oltre i nuovi hitler uccidono nella maniera più violenta per fame e per sete ma l'immaginate che vuol dire uccidere le persone togliendo l'acqua e togliendola a chi agli ultimi ai più deboli ai diseredati ai malati a chi sta già soffrendo ma quanto livello di infamia ci vuole per concepire una stagione come questa che è una stagione che serve solo a introdurre poi il meccanismo del pentobarbital cioè dire poiché l'uccisione per disidratazione è disumana e vi faranno vedere le storie disumane dell'uccisione per disidratazione uccidiamoli col pentobarbital che siamo più umani per cui abbiamo quella paradosso per cui emma bonino con giusva fioravanti con francesca mambro con gli stragisti di bologna con quelli che ci hanno nove ergassoli sul groppone fanno nessuno tocchi caino per non fare l'iniezione di pentobarbital ai pluri assassini negli stati uniti e si battono contro la pena di morte ma allo stesso tempo in italia i malati vogliono dare il pentobarbital ma c'è qualcosa di più folle non l'odiamo al pluri assassino americano l'odiamo al malato italiano il pentobarbital anna russo dice sono sadici scusate se mi faccio prendere ma io trovo talmente folle tutto questo siamo dentro una colossale follia e in una serie di panzane che ci vengono rivendute come fossero verità cristalline sono solo ambigui e torbi le operazioni dei neomaltusiani che vogliono uccidere un popolo scusate davvero scusate davvero se mi faccio prendere trascendo ma non riesco a restare silenzioso questa è la nostra battaglia la battaglia per la vita fondamentalmente è la battaglia per la vita fatemi salutare i tanti sacerdoti che vedo don francesco colamonaco don damiano cavallaro ne vedo davvero tanti vi ringrazio tutti vi scuso se non riesco a salutare mi sono fatto prendere e non riesco a leggere le vostre frasi gabriella maiglia ricerchiamo nuovi amici sui social cerchiamo nuovi amici sui social gabriella cerchiamoli anche per strada andiamo per strada a far sentire far sedere far conoscere questo simbolo il simbolo del popolo la famiglia che è l'unica alternativa possibile bisogna fare una croce su questo simbolo non per giudicare l'italia ma per salvarla per salvarla e abbiamo solo questo strumento l'avete vista emma bonino altro ieri da fazio col suo simbolone grande così noi abbiamo i simbolini e le dirette di facebook siete pronti a far conoscere il popolo della famiglia in questa maniera luca molinano dice grazie mario occhio alla pressione hai ragione occhio alla pressione giorno mi salta la valvola e finisce tutto va beh vi batterete al posto mio lo so già insomma no dedicatemi l'aula dei gruppi parlamentari quando entrate in parlamento la chiamerete aula maria di nonfi sarà sarà il vostro modo di ricordarvi se vi verrà in mente che sto ciccione qualcosina ha fatto per la causa del popolo della famiglia saluto alessandra mondelli che sta gazzebia gazzebiando si dice gazzebando sta facendo i gazebo insomma nella zona del novarese brava alessandra nostra candidata nel territorio del novara borgomanero ossola verbania saluto vittorio pesti vittorio pestillo felice liccardi faustino gogliandro verita body maria sunseri vittoria polacci che dice ci servi vivo vabbè cercherò di sopravvivere almeno fino a 4 marzo ragazzi sono poi dopo la caverete voi andrò a fare altro no ma mosè tocca questo insomma fa porta fino alla terra promessa poi speriamo che ci arriviamo tutti bene saluto chiara basile che dice non sei ciccione sei diversamente stressamente magro se ecco i capelli che hanno una vertigine oscena mi perdonerei guardate l'angelo non guardate me insomma oggi è il giorno di questo meravigliosa pagina di vangelo con l'angelo che arriva e annuncia vita ecco pensate a lui non pensate a me pensate all'angelo che annuncia vita è della bellezza dell'unione tra la pagina del vangelo la sentenza della corte costituzionale lo trovate il link tutte le volte che leggiamo mi dicono non devi leggere il vangelo non sei titolato oppure arriva quell'altro dice la saga scrittura e io trovo invece sempre una bellezza enorme nel lasciarmi ispirare dal vangelo del giorno e nel toccare attraverso il vangelo la coincidenza con ciò che stiamo facendo nella battaglia quotidiana per la vita e per la famiglia saluto Claudio Iacono dice almeno la prima volta ci andiamo tutti insieme al parlamento ma certo tutto voglio tutto il popolo la famiglia davanti al parlamento se dovessimo raggiungere quel risultato e lo raggiungeremo saluto Fabrizio delle Piane saluto Mauro Chialastri che non c'ha i capelli dice beato te che può essere scapigliato giustamente giuseppe fogone i nostri battaglieri esponenti del popolo la famiglia nel meridione d'italia dove è tanto difficile fare questa battaglia Piera Giacometti è arrivata perché ha dormito troppo però è arrivata ora in diretta e allora buongiorno Piera Giacometti buongiorno a Tommaso Verna buongiorno a Gloria Gallarelli a Emiliano Velasco a Sara Deodati a Cesare Fanfani che solo gli sciocchi possono dire che non puoi leggere il vangelo sì in effetti ho trovato un po' la sciocchezza quando mi hanno fatto questa osservazione e infatti stiamo qua a leggerlo e con tanti sacerdoti che spero diano la benedizione a tutto questo per esempio è arrivata adesso in diretta Don Francesco Morcavallo un altro sacerdote che segue ogni mattina stampa evangelo c'è anche Pippo Imbesi che dice tutti siamo chiamati a diffondere la buona novella c'è Alicia Cortelano Alicia Cortelano ti ho mandato la locandina per Bergamo perché la stavi chiedendo quindi te l'ho mandata direttamente sulla pagina Facebook Gabriella Maiglia dice l'avvocato cassazionista in pensione può canvalidare le firme penso di no penso debba essere in attività saluto anche Bobac Falamachi Federico Pieroni Delia Lazzari Emiliano Velasco spero rivederti venerdì a tavola io ci sarò e sarò pure bello grosso quindi vediamoci davvero lì in diretta abbiamo anche la presenza a Reggio Calabria il nostro candidato a Reggio Calabria è Orazio Filippelli su tutto il territorio calabrese ci stiamo organizzando comunque per una presenza importante c'è anche Luca Gentile Salvo in Candela Milena Brindisi Trabona devo tra poco lasciarvi vi annuncio che domani sarà l'ultima puntata di stampa evangelo dell'anno domani quindi vi do appuntamento alle 8.30 per l'ultima puntata di stampa evangelo dell'anno perché poi comincia il tour domani sera sono a Bergamo poi sarò successivamente proprio prima di Natale a Palermo a Messina a Catania e ad Avola quindi l'ultima puntata di stampa evangelo Maria Teresa di Tursi dice in Basilicata ci sarete certo Basilicata c'è il nostro Marco Fasulo che è il nostro leader in Basilicata ci saremo sicuramente è arrivato anche Emiliano Fumaneri Emiliano Fumaneri ha firmato l'editoriale molto bello che racconta alcune cose su Giorgia Meloni nella prima pagina di La Croce di oggi ricordo a tutti un bel regalo di Natale è il quotidiano La Croce magari accoppiato con Capiamo Moriamo magari con la testa del popolo la famiglia per sostenere il nostro lavoro che ricordate va in tutta Italia e dunque è faticosissimo e costosissimo è arrivata persino la mia mughiera Silvia Bardolesi alla diretta la salutiamo ciao tesoro ciao amore un bacio a Silvia un saluto anche a Ernesto Coccoli Enzo Valenti Danilo Leonardi ci facciamo gli auguri domani ci facciamo gli auguri Danilo domani ultima diretta dell'anno perché poi appunto il tour mi porta lontano e dove in un aereo alle 7 di mattina che arrivano alle 8 e 50 perché arrivare da Bergamo a Palermo è complicatissimo Gabriella Maiglia chiedevano di Milano Silvio Restelli su Milano Silvio Restelli sta organizzando sempre anche lui qui su Facebook ovviamente la nostra congiruppi leuteri sempre su Milano Silvia lo dà grazie per la contagiosa passione come facciamo ad essere appassionati oggi che abbiamo vinto abbiamo vinto e diciamolo una volta vi ricordate che io dal palco vi salutai il giorno del Circo Massimo con la V di vittoria ecco adesso è diventata vittoria vera con la sentenza 272 del la Corte Costituzionale che ha fatto mettere al bando definitivamente in Italia l'Uto in affitto vittoria di tutti voi vittoria abbiamo vinto noi con la nostra perseveranza con la nostra intelligenza leggendo i pericoli da quattro anni a questa parte indicandoli anche ai parlamentari che non li volevano vedere ai cattolici che li ignoravano a principi della chiesa a cui sono andato a spiegare personalmente cosa fosse la stepchild adoption abbiamo vinto noi allora oggi sì celebriamo la nostra vittoria ehm Don Massimo Lapponi altro sacerdote che saluto fondamentale firma del quotidiano la croce mi chiede a quale programma per gli italiani all'estero stiamo scrivendo anche questo per avere la presenza anche nella partita degli italiani all'estero ovviamente voi potete immaginare quanto faticoso sia organizzare tutto questo io vi prego un attimo pensate a immaginare 63 collegi plurinominali camera 34 collegi plurinominali senato centinaia di collegi uninominali gli italiani all'estero la modulistica la campagna elettorale il 30 dicembre l'assemblea nazionale tutta roba che costa peraltro eh per cui se vi abbonate alla croce ci sostenete un pochino fate una cortesia però intanto vediamoci eh così ci vediamo il 30 30 dicembre a via cavur 50 centro congressi cavur per il nostro eh la nostra assemblea nazionale poi pensate che tutti i giorni facciamo la croce quotidiana il numero che trovate come abbonati per leggerlo tutti i giorni tutti i giorni facciamo un'iniziativa di presentazione di o capiamo o moriamo pensate a Gianfranco Amato che è stato in giro per l'Italia Mirko De Carli e Nicola Di Matteo insomma ci stiamo impegnando allo spasimo voi fate un solo un piccolo lavoro condividete questa diretta sul vostro profilo facebook fate sapere a tutti che abbiamo vinto noi con la sentenza 272 che mette al bando definitivamente l'utero in affitto in Italia definendo una grave offesa alla dignità della donna facciamo subito questo lavoro convinciamo tutti coloro che troveremo a tiro d'ascolto del fatto che c'è questa alternativa è un'alternativa di persone di buona volontà che può essere votata alle prossime elezioni per cambiare completamente scompaginare completamente il l'equilibrio politico contro lo sconfittismo cattolico come ha scritto Danilo Lonardi credo sia stato lui perché non abbiamo perso se si va in battaglia si può vincere si può perdere se non si va in battaglia si perde certamente se ci si vende ai politici tradizionali che ci hanno già venduto siamo solo dei venduti quindi adesso abbiamo una sola opzione questa un milione di voti sul simbolo del popolo della famiglia per costruire le condizioni della vittoria al Parlamento e per stabilizzare una presenza di cattolici sui principi non negoziabili che a questo punto saranno determinanti negli equilibri di ogni amministrazione locale di 8.000 amministrazioni locali di tutte le regioni nel livello del Parlamento europeo pensate quanto possiamo incidere quanto possiamo cambiare se già abbiamo vinto vinto con la sentenza 272 del corte costituzionale una vittoria storica di che arriva dopo quattro anni di battaglia ecco sappiate le vittorie arrivano dopo tanta fatica dopo tanta fatica nessuno può pensare che si impegna oggi e vince domani c'è da fare sempre una traversata del deserto noi la faremo dovesse durare 40 anni ma la faremo la faremo e arriveremo perché sappiamo che ci stiamo battendo per ciò che è giusto federico pieroni vuole vedermi come el sharawi il 4 marzo visto che mi si alzano i capelli con la vittoria hai ragione anche piero a giacometti dice la causa del capello alto e la vittoria esatto mi sono rizzati per per celebrare ciò che abbiamo ottenuto saluto razzo filippelli che ho appena citato punto candidato in terra a calabrese la bellissima francesca patuzzi silvi portalupi che si è regalata o capiamo moriamo e ha mandato anche le foto con il libro appena ricevuto grazie silvi giovanni fioli dice le vattorie arrivano quando meno dell'aspetti e bisogna però lavorarci giovanni che non arrivano come così a caso arrivano perché vengono da un percorso di lavoro e di lotta durissima nel deserto prepariamo la strada dice danilo leonardi citando proprio il lavoro di giovanni battista oggi protagonista nel suo concepimento della pagina di vangelo saluto raffaella petrarulo il pdf la risposta alle mie preghiere ancor prima che nascesse grazie raffaella saluto teresa salis pangrani nicola ocello dobbiamo tenere alta l'attenzione e calciarli dal parlamento con il vostro con il nostro voto unito uniamoci tutti gli uomini buona volontà bravissimo nicola saluto anche rossella paone giovanni fioli ce lavorandoci col padre eterno ovviamente come diciamo sempre la vittoria è sua ma per avere la moltiplicazione dei panni e dei pesci cinque panni e due pesci se ne portarli se no se ti affidi solo al padre eterno il padre eterno dice tu che hai fatto allora ora noi dobbiamo fare e poi sperare e pregare come giusto che sia bobac fa la macchina dice incideremo e potremo anche essere buoni operai della vigna per aiutare la vittoria di dio saluto anche sirio monteodorisio che chiede tutela per le famiglie numerose che sono ovviamente al centro della nostra riflessione della nostra azione anna ciappa collega a tutto dalla stampa evangelo di oggi alla vittoria dicendo siamo chiamati a non essere muti anna russo dice sono felice per voi per la vostra vittoria che di riflesso è anche per noi venuti dopo è la vittoria di tutti anche di chi ha speso un giorno per sostenere questa causa perché è un popolo che vince oggi è il popolo che sa che c'è la dignità di ogni persona dal momento della concepimento al momento della morte naturale e questa dignità è inviolabile questo è ciò che oggi sancito come vittoria dalla corte costituzionale un abbraccio a tutti voi ce ne andiamo in diretta domani dalle otto e mezza lo ripeto per l'ultima puntata di stampa evangelo chi non c'è domani dalle otto e mezza è una spia non è figlio di maria è scherzo ovviamente speriamo di trovarci in tanti per i saluti e per gli auguri di natale fate sapere a tutti che abbiamo vinto lo ripeto nessun quotidiano ha messo la notizia in prima pagina siete voi oggi la prima pagina di questo paese su questo fatto e allora condividete la diretta che abbiamo appena fatto sul vostro profilo facebook fate un mi piace se volete a questa diretta di vittoria perché abbiamo vinto noi e noi ci ritroviamo domani con stampa evangelo dalle otto e mezza per l'ultima puntata del 2017 in attesa di un 2018 che speriamo il signore sia l'anno della vittoria definitiva del popolo della famiglia e comunque sarà l'anno dell'inizio di un cammino che ci porterà tutti insieme lontano a domani cari amici ricorda gli amici bergamaschi che domani alle 20 e 15 sono a bergamo al convento dei cappuccini a fare un'iniziativa di presentazione di o capiamo o moriamo per la serie non ci danno le sale parrocchiale ci danno direttamente i conventi perché anche la chiesa sta cominciando a capire che il lavoro di popolo della famiglia il lavoro di quel piccolo libro che si chiama o capiamo o moriamo è un lavoro che ha a che fare con la verità e che può essere un utile strumento di battaglia per far vincere la verità e scacciare le tenebre e combattere il male noi ci siamo e davvero è bello sapere siamo in tanti davanti una buona giornata a tutti raffaella petraturo dice ci contagi con la tua passione siamo tutti allora appassionati sostenitori di questo simbolo del popolo la famiglia mettetelo come fotoprofilo fatelo diventare la vostra immagine dobbiamo farlo conoscere in tutta italia e non avremo le occasioni di emma bonino che va in prima serata da fabbio fazio con simbolo grande così quindi siete voi i protagonisti siete voi di questa battaglia uno per uno voi a poter rappresentare la cambio di rotta la soluzione alle tenebre che avanzavano e forse attraverso noi possono essere diradate se non cacciate da male di noi una buona giornata a tutti ci troviamo domani per l'ultima puntata dell'anno di stampa e vangelo un abbraccio col cuoricino anche da parte mia a silvi a federico pieroni a manuela miraglia leonardo de stefano a maria di giuro a giuseppe annichino davvero un buon giorno da tutti